L'FC Bayern Basketball, vice campione di Germania, è arrivato questo pomeriggio alle 15.30 nel Garda Trentino per il periodo di preparazione pre-campionato, che si svolgerà a Riva del Garda fino al 28 di agosto. La squadra si allenerà al Palagarda e alloggia presso la Storia Park Hotel, dove oggi al loro arrivo si è tenuto il brindisi di benvenuto alla formazione tedesca, alla presenza delle autorità locali. Giovedì alle 18.30 il Bayern Basketball giocherà un amichevole contro la Dolomiti Energia Trentino. Per assistere all'incontro prosegue la pre-vendita dei biglietti presso gli uffici di Garda, di Riva, Arco e Torbole, il cui costo è di 10 euro l'intero, 6 euro il ridotto ed ingresso gratuito per i minori di 12 anni. Assessore, dopo la squadra di calcio ora tocca al basket del Bayern essere qui in ritiro sul Garda Trentino. Che rilevanza ha questo per il nostro territorio? Credo che la partnership che è stata avviata con il calcio abbia dato riscontri di grande interesse, riscontri che hanno posto questa meravigliosa località in un mercato bavarese per noi importante. La scelta ora di ospitare una delle discipline in crescita per quanto riguarda lo sport trentino, con i risultati della Dolomiti Energia, normalmente testimonia credo quello che è l'attenzione che il Garda Trentino ha sempre posto alle tante discipline sportive, in questo caso per il periodo di preparazione dal punto di vista fisico o psichico e credo che il soggiorno degli amici del basket bavaresi saranno per loro foriero di grandi successi. E' una partnership che deve continuare anche in futuro, perché sappiamo quant'è la presenza degli amici bavaresi per le loro vacanze, ma non più per le loro vacanze, anche per cimentarsi in tante discipline sportive che il territorio gardesana sa offrire. Per quanti anni verranno qua in ritiro la squadra del basket? Per ora c'è questa iniziativa, poi spetterà l'azienda promozione turistica a fare le proprie valutazioni, l'istituzione provinciale, il collega dalla piccola che si occupa della promozione del territorio, nei loro progetti c'è naturalmente questa attenzione particolare di continuare il rapporto, credo che un rapporto, come ho detto, può dare enormi soddisfazioni ad entrambi i protagonisti. Questi ritiri sportivi che effetto hanno sul turismo nel nostro territorio? Più che gli effetti del ritiro sono gli effetti che ci aspettiamo poi dalle azioni promozionali che insieme al Bayern faremo su Monaco, perché il nostro bacino di riferimento e quindi essere lì con una punta di diamante e con un marchio come quello del Bayern, anche se del basket, sicuramente questo conta. Quindi il riflesso che abbiamo visto in questi ultimi anni dopo il calcio è stato un costante aumento dell'area germanica e l'aumento dell'area germanica, essendo per noi il 45-50% delle presenze, naturalmente conta molto. La seconda possibilità che ci viene data è l'approccio con gli sponsor del Bayern, perché sono gli stessi del calcio anche per il basket. Ricordo M.A.N. che è uno sponsor principale e che viene da noi ormai da tre o quattro anni, Audi che ha già fatto un evento qui, Paul Aner pure, e quindi abbiamo la possibilità di agganciare degli sponsor del sud della Germania che sono sempre sicuramente una cosa interessante. Poi spetta a noi sfruttare bene queste iniziative che faremo, ripeto, all'Audi Don di Monaco e quindi pensare di portare sempre più tedeschi sul Garda e sul Garda Trentino. Giovedì c'è l'amichevole, quanta gente è prevista, quanti biglietti sono stati venduti e sappiamo anche che il campo è stato un po' modificato per l'occasione. Devo dire che la struttura aveva bisogno di un certo restyling, quindi abbiamo approfittato insieme al comune di Riva del Garda di fare un po' di restyling e di metterlo un po' in funzione nuovamente. È un bel palazzetto, loro sono molto contenti, la partita mi auguro che crei molto più interesse per l'Aquila Trento che naturalmente è la nostra squadra di punta, ma oggi ha visto qualche bella prenotazione anche da parte dei tedeschi e quindi pur essendo meno conosciuto del calcio, sicuramente anche il basket un certo interesse lo darà. Questo è il primo anno che la squadra del basket del Bayern Monaco viene in ritiro qui sull'Alto Garda, ci saranno in futuro altre occasioni come questa? Sicuramente l'anno prossimo, in quanto abbiamo fatto un contratto biennale che prevede naturalmente per tutte le due prossime primavere nostre iniziative presso il loro palazzetto di Monaco e quindi una promozione là. Quindi per i primi due anni siamo a posto, poi vedremo come funziona. Non è detto che poi ritorni il calcio e che forse la Cina offra un po' meno vantaggi voglio dire anche ai calciatori e quindi si possa riavere anche il Bayern originale dalle nostre parti. So che la provincia peraltro su questo sta lavorando per mantenere comunque un minimo di rapporto e anche lì saremo in prima fila come territorio più interessato naturalmente al fianco della provincia per riuscire ad avere comunque un piede anche nel calcio. Qualunque squadra di un'importanza come il Bayern o di altre formazioni che ci possano portare lustro e che siano significative specialmente dato che noi viviamo anche di turismo germanico avere squadre come il Bayern secondo me è sicuramente una cosa spiccabile anche per gli anni futuri. Giovedì ci sarà questa partita amichevole tra la squadra del Bayern Monaco del basket e la Dolomita Energia Trentino un match sicuramente importante per la prima squadra del Trentino? Assolutamente sì, siamo onorati di essere stati invitati a iniziare la preparazione insieme al Bayern Monaco che è una delle squadre d'eccellenza in Europa per noi sarà questa la prima stagione in cui andiamo a giocare in ambito europeo quindi sarà già un buon inizio, un buon test. La preparazione della squadra a che punto è? Abbiamo appena iniziato abbiamo iniziato martedì quindi abbiamo una settimana di lavoro nelle gambe chiaramente non si sono ancora gradati alla squadra Pascolo e Poeta che sono i due ragazzi che sono con la nazionale e si stanno preparando per gli europei.